partiti di riprendere la loro attività e di poter incidere sul territorio. Estendiamo la cassa integrazione a quei partiti che appunto non hanno avuto il requisito, ma neanche lo sappiamo, perché di essere iscritti al registro nazionale dei partiti, perché nessuno ha esaminato finora gli statuti di nessun partito. Voglio ricordare che nella relazione del dottor Calamaro sono 85 i partiti che avrebbero diritto a tutto ciò. Allora, io non credo che i lavoratori di nessuno possano pagare questo prezzo e credo che questo Parlamento, come è stato detto da tanti, ha il dovere di correggere quello che non ha funzionato e solo in questo senso si muove lo spirito di questa proposta di legge. La ringrazio la relatrice, facoltà di replicare il rappresentante del Governo che rinuncia la replica, il seguito del dibattito è rinviato ad altra parte della seduta, cioè alla seduta pomeridiana. L'ordine del giorno reca la discussione di disegno di legge di ratifica numero 2620-3056-3155-3085-3157. Avverto che lo schema recante alla ripartizione dei tempi di tali disegni di legge è pubblicato in calcio al resoconto stereografico la seduta del 5 agosto. Passiamo dunque alla discussione del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, 2620, ratifica l'esecuzione del trattato di estradizione tra Repubblica italiana e Repubblica popolare cinese, fatta a Roma il 7 ottobre 2010. Dichiaro aperta discussione sulle linee generali, avverto la Commissione Affari Esteri, si intende autorizzare da riferire oralmente facoltà di intervenire il relatore onorevole Marazziti. Che, essendo presente, a questo punto non interviene. Quindi sospendiamo la seduta per 5 minuti. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.